ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo qui all'isola d'elba porto azzurro dietro di noi insieme a mirko celestino city della nazionale la nazionale di cross country quest'anno ha deciso di fare il primo ritiro della stagione qui all'isola d'elba quindi mirko raccontaci un po perché avete scelto questo posto di nuovo perché diciamo come state organizzando questi giorni di allenamento ormai noi ormai appassionati lo sanno siamo qui ospiti dell'isola d'elba ormai da qualche anno una meta per noi veramente desiderata perché stiamo stiamo veramente bene sotto tutti i punti di vista sia del clima sia delle strutture ricettive ma ma in particolare quello che vogliono poi alla fine i ragazzi è il campo gara campo di allenamento ecco quindi sentieri strade single track e abbiamo veramente di tutto poi nel 2021 si sono svolte due gare molto importanti di cui internazionali d'italia e nel percorso di capoliveri by park e poi il mondiale marathon quindi conosciamo molto bene la zona è anche per questo che scegliamo l'isola d'elba perché almeno sappiamo già cosa andiamo incontro e riusciamo a programmare anche meglio le uscite di allenamento esatto quindi come avete programmato questo ritiro avevate già uno schema di base diciamo prima di partire oppure avete vi siete visti qua e avete programmato un po le giornate no alcune indicazioni ai ragazzi sono state date anche perché almeno arriviamo durante questi ritiri riusciamo a organizzarci al meglio formare dei gruppi che alla fine lo scopo primario di questi stage di inizio stagione proprio quello formare il gruppo vedere i ragazzi che lavorano che cercano di lavorare tutti insieme perché poi ognuno ha anche il suo preparatore le sue chi è più in forma chi arriva magari da da zone più freddi quindi è meno allenato magari ha più lavoro di sport alternativi come possono essere magari scida alpinismo scida a fondo o via dicendo qui alcuni iniziano a con le prime pedalate magari ci invece ci sono alcuni che arrivano già con qualche chilometro in più sui ragazzi quindi diciamo che di base ognuno fa la sua tabella però comunque si cerca di di rendere un po simili diciamo le uscite quindi sia strada che fuori strada abbiamo visto anche hanno portato tutte e due le bici proprio perché il fondo diciamo immagino che sia sempre in questo periodo dell'anno è importante giusto? sì loro utilizzano prevalentemente la mountain bike ma la strada fa parte della preparazione ecco quindi si utilizza soprattutto la bici da strada ogni tanto per fare l'uscita lunga piuttosto che alcuni tipi di lavoro specifici preferiscono logicamente l'uscita di mountain bike perché qua ti diverti qua certo sembra fatto apposta. Senti da una recente intervista fatta insieme a Andrea Tiberi che ricordiamo da quest'anno sarà collaboratore di Mircon nella nuova nazionale post olimpica ci ha detto Andrea che cambierà qualcosa cosa cambierà cosa avete in mente e come avete diciamo pianificato questo cambio di rotta della nazionale? Sì in particolare in particolar modo come hai detto tu sono affiancato da Andrea Tiberi sappiamo conosciamo tutto il suo passato da grande atleta molto preparato si occupa soprattutto dei ragazzi giovani quindi il settore giovanile e junior però logicamente con la sua esperienza mi seguirà anche sui campi gara delle categorie maggiori e un occhio in più così esperto non fa sicuramente male anche a me che ormai dopo cinque anni da ct di esperienza e di ragazzi ne abbiamo visti quindi e all'inizio è una novità anche 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 per lui quindi tra qualche giorno ci raggiungerà. Senti poi insieme a lui ci saranno anche altri collaboratori nuovi da come ho capito e diciamo forse più carta bianca per la nazionale fuori strada? Sì diciamo che c'è questa bella collaborazione tra diversi ct abbiamo visto soprattutto l'anno scorso sia al mondiale che all'europeo cross country l'affiancamento da Daniele Pontoni alla fine gli atleti sai che ce ne sono parecchi della mountain bike che d'inverno in questo periodo fanno fanno il ciclocross infatti alcuni non sono presenti qui perché presenti al campionato del mondo ciclocross in america ci sarà anche l'affiancamento di Simone Fabri il commissario tecnico del Downy che è molto importante anche per noi perché sappiamo i percorsi sono sempre più tecnici più difficili passaggi veramente impegnativi è una persona che arriva dal con l'asticella veramente alzata come quella di Simone fabbrica arriva dal Downy e ha molte esperienze in questo campo sicuramente un aiuto in più quindi diciamo dai più persone unite insieme per un obiettivo un po' più ambizioso secondo me la soluzione vincente anche perché è diventato adesso il mondo in tutto vediamo anche su strada e mountain bike è uguale molto di avere molta attenzione in ogni particolare non bisogna più lasciare niente al caso non non è più come una volta magari quando correvo io che pedalavi tanto e trascuravi alcuni aspetti ma andava bene lo stesso adesso devi veramente curare tutto e soprattutto nel fuoristrada la tecnica fa la differenza perché ci sono dei gran pedalatori e soprattutto anche nelle categorie un po' più giovani pedalano forte in salita ma alcuni peccano un po' in discesa e quindi c'è da lavorare molto molto in questo in questo settore senti guardando indietro no negli ultimi anni diciamo adesso a mente fredda stagione conclusa diciamo se ti sarei fatto un po' un'analisi c'è qualcosa che avresti cambiato e cambieresti in questo momento che comunque che non rifaresti un errore una due osservazione ma guarda gli errori quando ti metti in gioco li commetti diciamo alla fine sono soddisfatto di una stagione 2021 purtroppo le olimpiadi è quella parte della stagione che non l'ho ancora digerita è andata male purtroppo sono appuntamenti veramente particolari io per primo su tutti mia prima olimpiadi da proprio nella mia carriera d'atleta non sono mai riuscito a parteciparvi e sono riuscito da città ci siamo presentati a tokyo è andata così ci siamo purtroppo anche il periodo probabilmente non ci ha aiutato ma alla fine siamo tutti sulla stessa barca dai inutile trovare trovare l'escluso più importante è quello delle olimpiadi sì sì un appuntamento atteso da da tempo slittato per un anno causa pandemia quindi i ragazzi hanno dovuto riprogrammare tutto insieme ai ragazzi abbiamo dovuto riprogrammare tutto e senti andrea ma un po accennato diciamo che c'è stato un qualcosa anche che non è andato sull'avvicinamento regole covid insomma formalità varie forse anche quello che va condizionato sulla preparazione perché alla fine le pedine ce l'avevamo gli atleti erano tre erano forti sì dobbiamo essere onesti che anche nelle gare di coppa del mondo precedenti non avevamo brillato più di tanto quindi ci siamo avvicinati e alla fine le olimpiadi è un secco di stato che alle olimpiadi siamo andati più piano del previsto sapevamo di non essere arrivati proprio come volevamo ecco perché abbiamo visto nelle gare di coppa del mondo entravamo nei dieci con alcuni atleti alcuni addirittura non ci sono più entrati faccio un nome che sbaumer ha fatto fatica in questo avvicinamento però abbiamo dato alcuni segni importanti come l'ultima gara di coppa del mondo prima delle olimpiadi dove brai dot con le danni e anche il gare hanno dato dei dei segnali positivi di avvicinamento vedrai che arriva al momento giusto siamo arriviamo proprio pronti e invece invece sono appuntamenti un po secchi che forse anche l'approccio psicologico la butto là ragione abbottata potrebbe essere anche un discorso di che bisogna lavorare un pochino da quel punto di vista sai sono appuntamenti importantissimi che ho sempre detto anche ragazzi man mano che si avvicinavano i giorni detto ragazzi le olimpiadi non è un obiettivo dovete arrivare a dobbiamo arrivare a tokyo con la voglia di vincere solo con la voglia di vincere possiamo portare a casa un risultato poi vincere è difficile sempre per tutti proprio se non arrivi lì con la mentalità vincente invece di arrivarci con la mentalità mare un po di appagato come dire io sono qui ce l'ho fatta raggiungere questo questo obiettivo giochi solo per un piazzamento oppure neanche per quello e probabilmente sai una serie di cose tu hai fatto riferimento un po alle riscrizioni covid e quant'altro le regole erano uguali per tutti ci siamo trovati tutti sulla stessa barca infatti la non è stato proprio così entusiasmante questo questa trasferta a livello anche di tranquillità perché eravamo lontano da tutti non potevamo fare niente a parte allenarsi solo sul campo gara quindi è stata non è stata facile ecco non è stata facile probabilmente anche questo questo fattore alcuni l'hanno pagata di più di altri però senti hai parlato di gears baumer sarebbe stata proprio la prossima domanda diciamo che gary ci aveva un po raccontato a fine stagione lo scorso anno che forse il discorso di aver cambiato tutto in pratica lo scorso anno tra team metodo di allenamento ritornato sul sulla preparazione col misuratore tipo dentro insomma delle cose che sappiamo bene a lui lo hanno un po sconvolto forse secondo te quest'anno lui essendo ritornato un pochino diciamo allenarsi a modo suo potrebbe ritornare ai suoi livelli diciamo di quando ha vinto in coppa del mondo guarda gary ha sempre dimostrato grande carattere grande determinazione cosa che come stai accennando tu ultimamente negli ultimi anni ha un po perso ha fatto questo grosso salto di andare in una squadra straniera una squadra importantissima e avevo iniziato a utilizzare potenziometri ha iniziato a essere un po sotto un po più social del solito e sai si poi è facile parlare no una volta che poi diciamo la stagione è andata con i risultati alla fine diceva avrà fatto bene avrà fatto male gary doveva fare questo salto doveva andare in un team non che prima si stava male perché con la torpado con con mauro è sempre stato un gran professionista anche lui quindi con mauro betti si è sempre trovato bene infatti è anche grazie a lui che è ritornato ai grandi successi sappiamo tutta la storia di del gheri è partito dal team bianchi a grandi vittorie campione del mondo under junior under stiamo aspettando stiamo aspettando che arrivi a farmi a fare il colpaccio e speriamo che sia quest'anno sì dai bisogna sicuramente dargli fiducia perché poi in questi nell'arco degli anni sai non è sempre tutto uguale anche i ragazzi lo dico sempre i ragazzi non è ogni anno è diverso ogni anno dovete rincominciare da capo riprepararvi cercare di non perdere la fiducia in voi stessi perché un anno ti può andare tutto bene l'anno dopo rifai le stesse cose e non riesci a capire perché non vai e lì ci vogliono veramente le persone giuste a fianco che ti dicono cercano di riadrizzare il tiro ecco ricordiamo in questo ritiro gheri non è presente perché in america con proprio con il team specialize però immagino che i prossimi ritiri insomma sarà dei vostri sì 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 gheri sicuramente sai lui non è un amante dei ritiri faccio sempre un po fatica a portarli in ritiro poi quando è tra di noi lo vedi si rilassa è contento e si diverte perché poi alla base di tutto ci deve essere anche il divertimento va bene la professionalità la serietà c'è sempre però il bello di vedere i ragazzi tutti insieme è anche quello vederli divertirsi no adesso con ognuno ha il suo preparatore le sue tabelle le sue cose da seguire e spesso si isolano e questo qui è un po' il lato diciamo un po negativo delle di questo sport che alla fine uno sport si individuale ma è bello stare in squadra sempre più specialistico proprio sì 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 senti nomi secchi due nomi secchi uomo e donna che secondo te nel 2022 faranno bene che comunque faranno il salto il salto anche più giorni iuri zanotti e martina aberta velocissimo quindi sei abbastanza diciamo convinto si sono iuri zanotti vediamo abbiamo visto in questi anni è una garanzia lui veramente già già la testa di un professionista vero beh ha cambiato poi in sostanza a fianco a uno insomma giuliano salone che non è l'ultimo arrivato sì anche lui ha lasciato tra virgolette l'italia come team per andare all'estero in francia con absalom e sicuramente gli farà anche bene come esperienza perché devono affrontare questi ragazzi questi cambiamenti che gli servono sicuramente per il futuro la martina aberta anche lei ha già assaporato il il gusto di una maglia iridata quindi la stiamo aspettando ma insieme a loro ecco non voglio creditare sicuramente gli altri abbiamo anche tanti ragazzi giovani abbiamo ragazzi più esperti e anche tante ragazze un'altra ragazza veramente in gamba abbiamo visto una crescita esponenziale soprattutto l'anno scorso in questi due anni e la sarah cortinovis molto giovane marika tovo già da speccia chiara teocchi ne abbiamo in ambito femminile siamo veramente messi bene in ambito maschile abbiamo aspettando qualche segnale importante da un luca braidot da gente che ormai è arrivata di finalizzare è arrivata quell'età che devi dare devi dare il colpo ogni tanto quello secco no come diciamo noi devi veramente portare a casa il risultato concreto purtroppo è arrivano i giovani e quindi non si possono finiamo bene siamo positivi senti ultima domanda prossimi programmi e obiettivi della nazionale diciamo a breve termine dai quindi dopo l'elba cosa farete dopo l'elba organizzeremo un piccolo ritorno tiro con le ragazze di tre o quattro giorni basato sulla tecnica e poi ci dedicheremo anche al settore un po più giovane gli junior andremo faremo diverse trasferte per le junior series bisogna curare questa categoria di junior che è una categoria molto importante e che spesso si perde qualche atleta per strada quindi bisogna stagli abbastanza addosso categorie giovanili sono sempre molto importanti abbiamo il campionato europeo che per loro è un appuntamento per loro per noi la federazione soprattutto mio è molto importante che come ho detto prima sarà seguito veramente bene da andrea e poi il marathon andiamo anche i ragazzi del marathon anche loro sono in giro un po con i vari team che affronteranno poi di diverse gara tappe la mediterranea epic l'andalusia e quindi un po d'attenzione un po su tutti anche se il lavoro è molto diverse specialità diverse categorie bisogna seguire un po tutti senti mi hai detto che farete un lavoro di tecnica con le donne dove lo farete e con chi se verrà proprio simone o magari qualcuno del del gravity per darvi una mano allora si verrà simone verrà simone darci una mano ci sarà anche andrea e ci sposteremo in francia ok su un percorso cross country dove ci sono diversi sono stati costruiti diversi passaggi tecnici proprio in base alla difficoltà e quindi vogliamo dare un supporto in più alle ragazze preparare le ragazze adesso inizio stagione per i percorsi che si avvicineranno quelli internazionali in italia tutte le gare di inizio stagione per riprendere confidenza con la bici con i salti con i doppi con tutto quello che possono trovare sui campi gara quindi per loro questa è una cosa importante logicamente faremo un gruppettino ristretto è un piccolo lavoro che secondo noi porterà grandi frutti è una cosa nuova è una cosa nuova anche per noi perfetto direi che per ora è tutto grazie innanzitutto mirko continuate a seguirci perché qui da qui all'isola d'elba dal ritiro della nazionale vi volteremo tanti altri contenuti interessanti ciao e ci vediamo alla prossima ciao a tutti